Qui siamo al settimo, Dossena serve Fernandez, ecco il gol dell'Argentino, è l'1-0 per i Granato. Al tredicesimo punizione, Maldera respinge Terraneo, riprende Graziani, c'è il mani di Galbiati, l'arbitro Redini decreta il rigore, batte debolmente Frut, Terraneo spara. Passiamo al trentanovesimo, qui è il raddoppio del Torino, Beruatto avanza e serve Selvaggi, Selvaggi ancora per Hernandez, altra rete dell'Argentino, 2-0 per il Torino. Secondo tempo Roma in azione, qui Conti sfugge a Corradini e Zaccarelli, serve Falcao, il tiro è parato da Terraneo. Al quarantatresimo, l'infortunio, chiamiamolo così, Sereso, Vincenzi, Zaccarelli batte involontariamente Terraneo, 2-1.